Benvenuti! Oggi facciamo una sequenza di circa 30 minuti in cui ci focalizziamo sul cercare di creare mobilità nella colonna vertebrale, sul cercare di migliorare l'equilibrio e la stabilità attraverso questa sequenza di Pilates. Bene, iniziamo in quadrupedia con le mani al di sotto delle spalle e le ginocchia sotto il bacino, muoviamo un po' avanti e indietro il peso del corpo per allentare la tensione nei polsi. Benissimo, ci sediamo un istante dietro e premiamo il dorso delle mani uno contro l'altro per controbilanciare e poi fai ritorno con le mani sotto le spalle e radicando gli avampiedi scivola indietro e ruota i glutei verso l'alto estendendo la colonna vertebrale. Venendo in avanti muovi il coccige in mezzo alle gambe, sguardo alle cosce, scivolando indietro radica il dorso dei piedi, stavolta stacca le mani arrotondando la colonna vertebrale e di nuovo scivoli in avanti, sguardo oltre, radica i piedi, gli avampiedi ed estendi, aprendo il torace e poi di nuovo peso avanti, dorso dei piedi, stacchi le tue mani, arrotondi la schiena e ancora a creare mobilità in estensione e in flessione nella colonna vertebrale. l'ultima volta. Sull'ultima volta in cui scivoli indietro srotoli la colonna lentamente. Quando siamo in questa posizione per via, per il fatto che il ginocchio è flesso, i nostri quadricipiti sono un po' in tensione e il bacino tende a stare in questo modo. E se eseguissimo l'esercizio di tight stretch, che è quello che andiamo a fare adesso, così sentiremmo fastidio alla schiena. Invece muovi il coccige in mezzo alle gambe. Tight stretch è proprio un allungamento profondo dei quadricipiti, del retto femorale, dell'opsoas ed eccezionale per rinforzare muscoli che stabilizzano la colonna. Quindi braccia a lungo i fianchi, l'importante è che i piedi siano allineati alle ginocchia e scivoli indietro. Tight stretch. A formare una zeta con il tuo corpo. Decidi tu quanto andare indietro, no? Dipende da come senti le tue ginocchia. Quindi potrai fare un piccolo movimento oppure addirittura andare tanto giù. E poi da qui radica nuovamente gli avampiedi e ritorna in quadrupedia. Ripoggiamo il dorso stavolta e solleva soltanto la tibia destra, rimanendo in appoggio sul ginocchio. Pensa come se la punta del piede fosse il tuo coccige. E quindi laddove va la punta del piede va il tuo coccige, fletti la colonna quindi dallo stesso lato in cui stai muovendo il piede, come a voler muovere lo sguardo dietro, e poi dal lato opposto. E più e più volte attivando i muscoli laterali del tronco. E' eccezionale questo esercizio per migliorare la mobilità torassica, rinforzare i muscoli laterali del tronco, riattivare i muscoli laterali del tronco. Poi ci fermiamo e fai lo stesso con l'altro. Sollevi la tibia a sinistra, il piede all'interno e fletti. Ispira a sinistra e ispira a destra. L'ultima volta. E poi ritorni al centro. E a questo punto incroci le gambe, venendo un po' più avanti sul tappetino, e porti le mani dietro le cosce. E utilizzando le cosce, le gambe come strumento, come punto fisso, estendi la colonna vertebrale, trazionando a te le gambe. Energizza la nuca, radica i piedi. E da questa posizione, adesso muovi i tuoi ischi, le ossa che stanno alla base del bacino, indirizzali verso i tuoi talloni, richiamando il pube verso lo sterno, lo sterno giù, fino a prendere la forma di una C con la tua colonna vertebrale. E se puoi, fino ad arrivare in appoggio sull'osso sacro. Gomiti larghi. E poi ritorna, rotondando la colonna vertebrale, e riestenditi. Adesso includiamo una variazione interessante. Quando scendi giù con le mani, premi le gambe all'interno. E resisti a questa pressione. Mantieni un istante. E quando risali, invece, provate ad aprire le gambe in fuori, che resistono a quella trazione. E riestendi. E ancora. Fuori l'aria. Inspira. Fuori l'aria, risali. Inspira, riestendi. Ancora tre volte. Fuori l'aria. Inspira. Cambia la presa. Tira in fuori. E riestendi. Ancora per due. Quindi, come risultato, le ginocchia rimangono sempre allineate ai piedi. E riestendi l'ultimo. Immagina come se avessi una corona in testa, mentre vai dietro, che non vuoi far cadere. E poi fai il ritorno. Stavolta fai il rollback senza toccare le tue gambe allungando le braccia in avanti. Una volta appoggiato l'osso sacro, avvicina un po' i tuoi piedi e scendi un po' di più. Avvicina un po' i tuoi piedi e scendi un po' di più. Fino a raggiungere il tappetino. Bene. Tieni i piedi all'istotto delle tue ginocchia, le braccia morbide. Prendi coscienza dell'allineamento della colonna vertebrale, quindi l'osso sacro è il punto su cui stai scaricando il peso, non la zona lombare. Le scapole ben aperte da sentire, il torace è posteriormente ben radicato e allunga la zona cervicale, gola morbida. Per questa posizione inaspira e con la prossima ispirazione richiama il pube verso lo sterno e appiattisci appena un po' la zona lombare sul tappetino, così da sollevare il coccige e l'osso sacro. Per poi cominciare a muovere le ginocchia in avanti, continuando a staccare la colonna vertebrale fino ad arrivare in appoggio tra le tue scapole. Quindi evitiamo di sollevare il torace eccessivamente. Quindi più il coccige sale, più ancora un punto tra le scapole sul tappetino. Radica la base dell'allusce, la gola morbida. E da questa posizione premi di più con il piede sinistro in basso e porta appena più in alto il fianco sinistro, permettendo al destro di scendere un po'. E viceversa. Premi di più col destro, il fianco sinistro scende di riflesso leggermente, fa in modo che i fianchi non si muovino lateralmente, ma è soltanto una rotazione del bacino intorno all'asse centrale del corpo. Ancora per 5, 4, 3, 2. Molto simile alla dinamica della camminata, questo movimento. E poi ritorna con tutti e due i lati del bacino alla stessa altezza e srotola la colonna lentamente. Bene. Porta la mano sinistra dietro la zona occipitale. Chiudi leggermente il gomito, prendi aria ed espirando solleva il capo, le spalle, fletti il torace e fai scivolare il braccio destro oltre in avanti. Pensa con le scapole di abbracciare la gabbia toracica, poi inspirando muovi il braccio destro dietro, stabilizzando quella flessione del torace, poi ritorna col braccio in avanti e riscendi lentamente. E ancora fuori l'aria. Inspira, il braccio si muove indietro a destabilizzare la colonna vertebrale, poi ritorna e riscendi. L'ultimo. Inspiri, inspira dietro. Stavolta mentre muovi il braccio in avanti, solleva la gamba destra e porta l'ascella sinistra al ginocchio destro e con il braccio continua ad allungarti in avanti, continua ad allungarti in avanti e poi ritorna. Distendi la gamba destra avanti, ancora una volta, fuori l'aria. E in. E adesso, mentre l'ascella si muove al ginocchio, il braccio destro dietro. E in. Inspira. Fuori l'aria. E in. L'ultima volta, espira. E in. E poi ritorna col piede giù, scambia le braccia, mano destra dietro, sinistra lungo il fianco. E così, nuovamente. Inspiri. Ed espirando, sollevi il capo, le spalle allunghi il braccio sinistro oltre. E poi il braccio sinistro si muove dietro a destabilizzare la flessione del torace, poi ritorni, cerca un punto lontano e riscendi, inspira. E ancora, fuori l'aria, fai scivolare le costole verso il bacino, inspira dietro, e espira avanti. E lentamente ritorna. Ancora, fuori l'aria, inspira dietro, muovendo il braccio avanti, stavolta solleva la gamba sinistra, e porta la scella destra, il ginocchio sinistro, il gomito in alto. Il braccio sinistro continua a cercare un punto lontano, così fai il ritorno con il capo giù e allunga la gamba sinistra. E di nuovo, fuori l'aria, e in. Il braccio sinistro continua a cercare un punto lontano quando vieni su. E in, e espira, pensa alle costole di destra che si muovono verso l'elastico del pantalone, la tasca del pantalone sinistra, e mentre ruoti stavolta, braccio sinistro su. E in. E in. Ancora una volta. E in. E poi ritorna con tutte e due le braccia a lungo e fianchi. Bene. A questo punto, inspira, ed espirando nuovamente srotola la colonna vertebrale, vertebra per vertebra, fino ad arrivare in appoggio tra le tue scapole, e muovi il peso un po' più a sinistra, solleva la gamba destra piegata, e per sei volte con l'alluce vai a sfiorare il pavimento sotto di te e ritorna. Prova a mantenere il fianco destro stabile. Ancora per tre. E in. E espira due. E in. E espira uno. Rimani su. Srotola la colonna lentamente mantenendo la gamba sollevata. E una volta ritornata in posizione neutra. Inspira e di nuovo espirando. Pube verso lo sterno, vertebra per vertebra. Fai il ritorno. Vai ad afferrare il ginocchio. Trazionala a te e opponi resistenza alla trazione delle tue braccia. e poi lascia andare la gamba. Wow. E nuovamente solleva la gamba a sinistra. Sposta peso a destra. E per sei volte. Archifemorali. Inspiro. E fuori l'aria. Prova a percepire quella connessione tra bacino e torace. Ancora tre. E in. Due. E in. Inspiro. Rimani su. E srotola la colonna molto lentamente. Tornato in posizione neutra. In. Inspira. E di nuovo vertebra per vertebra. Fai il ritorno. Raggiunto il punto più alto. Afferra il ginocchio. Trazionalo a te. Crea opposizione. Un istante di isometria. Poi lasci andare la gamba giù. Prendi aria. Ed espirando srotoli la colonna lentamente. Bene. Ruotiamo sul fianco destro. Andiamo in appoggio sul gomito destro. Gomito sotto la spalla. Spingi il pavimento lontano da te. Mano sinistra sulla zona cipitale. Pensa al gomito sinistro che sale. Il gomito destro che si radica. E da qui, per alcune volte, sollevi la gamba sinistra, ruotando il femore all'esterno. E poi ritorni. Apro. E torno. Quindi proviamo a muovere, a creare mobilità nell'anca senza muovere il bacino. Perfetto. Attivando i muscoli rotatori esterni. Continua a puntare il gomito in alto. E poi ci fermiamo. Allunghi la gamba sinistra oltre. E da lì. Side kick front e side kick back. Inspiro avanti. Espiro dietro. Ogni volta che la gamba si muove in avanti, attiva di più i muscoli della schiena dietro per evitare che questa si fletta. E ancora per cinque. Ed espira. Quattro. Ed espira. Tre. Ogni volta che la gamba va dietro, attiva la muscolatura addominale di più. Ancora due. E in. Sull'ultimo ti fermi dietro. E allunga il braccio sinistro oltre, oltre, oltre. E continua a spingere con il gomito il pavimento lontano da te. E se ti senti, solleva il bacino. E mantieni. Cinque. Quattro. Senti i muscoli laterali del tronco attivi. Tre. Due. Uno. E fai il ritorno. Vieni in appoggio sulla mano. Spingi il pavimento lontano da te. Rotazione esterna dell'omero. Side bending. Ok. Se hai fastidio al posto, puoi eseguire questo esercizio in appoggio sul gomito. E in entrambi i casi due modalità. Nella prima, da qui, vieni su. Immagina com'è il salto dei delfini, come traiettori. E poi ritorna. O se senti stabilità nella tua spalla, porta il piede sinistro, quello della gamba sopra, in avanti. E distendi le gambe, andando oltre. E poi, quando fai il ritorno, il bacino scende, la sommità del capo sale. E quindi, espira. E ritorna. Quindi prima, prova a ricreare lunghezze, poi vai oltre. E ritorna. Ancora due volte, attiva i muscoli laterali del tronco. Spingi il pavimento lontano da te. E ritorna. L'ultimo. E nel fare ritorno, richiama le gambe a te. Afferra la tibia. E da lì, solleva il braccio destro. Marmite. Espandi il torace di destra. Allunga tutte e due le braccia. E per cambiare lato, radica le tue ginocchia e ti sollevi. Le gambe a questo punto si muovono a destra. Scivoli giù. E vai a appoggiare il gomito sinistro. Tiri allinei. Piante dei piedi. Osso sacro. Parte in mezzo alle scapole della colonna. Zona occipitale. Tutto su un'unica linea. Su un unico piano. Mano destra dietro. E rotazione esterna dell'anca. Benissimo. Prova a percepire l'opposizione tra movimento dell'anca e il bacino che rimane stabile. Per esempio, potresti poggiare una mano sull'osso sacro per valutare se la tua gamba riesce a... Il range di movimento della gamba è in assenza di movimento del bacino. Ancora per tre. Due. Uno. Poi distendi la gamba destra. Side kick front. Side kick back. In avanti, fino a quel punto in cui senti allungare posteriormente la coscia, ma cercando di stabilizzare la zona lombare. Quindi non è importante l'ampiezza del movimento, ma la stabilità della colonna. Ancora per tre. In avanti, espira dietro. Ancora due. Ed espira. Ancora uno. Rimani dietro. Ricerca un punto lontano. Braccio destro che diventa la prosecuzione della colonna. Sei su una diagonale. Prova a far rientrare le costole un po' e se ti senti solleva il bacino. Mantieni ancora per tre. Due. Uno. E fai ritorno. Vieni in appoggio sulla mano. Clavicola è larga. E quindi di nuovo, rotazione esterna dell'omero, decidi se fare side bending a gambe piegate e unite, compatte, o con il piede destro al di sopra. E in entrambi i casi, naso, sterno, ombelico su un'unica linea, inspira e fuori l'aria. Prendi aria. E ritorna lentamente. E pensa come immagine al salto dei delfini. Movimento armonico, fluido, come se disegnassi con il tuo braccio destro un grande cerchio. Quindi prova a prendere una forma curva che nasce proprio dall'attivazione dei muscoli laterali del tronco. Gli ultimi due. L'ultima volta. E poi ritorna. Da qui nuovamente è Marmaid. E spandi il torace di sinistra. E spandi il torace di sinistra. Afferra la tibia. Ok? Quindi questa variante di Marmaid potrebbe non essere per tutti semplicissima. eventualmente apri le gambe in questo modo. E da qui allunghi il braccio destro e vieni su. E se vuoi per alcune volte scambiamo questa posizione. Eccezionale questo movimento oltre ad essere divertente per attivare i muscoli laterali del tronco. Poi da qui scivoli a pancia in giù. Posizione prona. Allunghi le gambe indietro. Lunga la zona cervicale. Palmo delle mani in su, indietro. E da qui. Quindi con la zona pubblica spingi in basso le gambe lunghe. Cominci a sollevare le spalle. Ma al momento mantieni la parte bassa del torace ben radicata. E poi sollevi le braccia e ruota il palmo delle mani in giù. Pensa come di essere una freccia pronta a scoccare in avanti. E poi di nuovo palmo delle mani in su e riscendi. E ancora le spalle. Il petto si muove in avanti. Rotazione esterna dell'omero. Braccia che stringono verso l'interno. E ritorna. Ancora tre volte. Senti i muscoli della schiena attivi. E quindi prova a ricreare lunghezza. Sostieni la zona lombare attraverso l'utilizzo della muscolatura addominale. Le gambe attivissime. Ci fermiamo su. E poi da qui muovi le braccia in avanti. Bene. Prova a tenerle sollevate in istante. Poi poggia le mani. E solleva. Per oggi. Un po' anomala come cosa. Solitamente andiamo in diagonale. Gamba destra. Braccio destro. E viceversa. Questo per stimolare diversamente la muscolatura rispetto al classico esercizio di swimming. E poi tutte e due le braccia e tutte e due le gambe su. Da qui. Apri le braccia. E quando chiudi le braccia apri le gambe. E viceversa. Braccia aperte e gambe chiuse. Gambe chiuse e braccia aperte. Per tre. Ancora per due. L'ultima volta. E ritorna con le mani ai lati del torace. I gomiti stretti. Premi il tappetino in avanti anziché in basso. Spingi in avanti. I gomiti scendono. Lo sguardo sale. Swan dive. Sguardo su. Il petto ben aperto. I gomiti morbidi. Piega e distendi i gomiti per alcune volte. E crea supporto attraverso la muscolatura addominale. Eccezionale questo esercizio per rinforzare il cingolo scapolare. Triscipiti. Aldome attivo. Gambe attive. E poi ritorna lentamente giù. Inspira. Ancora una volta. Ispirando vieni su. Rimani lì. Ed espirando fai ritorno. Ora continua ancora. Swan dive. Chi si sente? Esegue swan dive. Se ti senti in modo dinamico. Quindi da qui nella versione intermedia. Le mani si muovono alle spalle staccandosi dal pavimento. Swan dive. Ritorniamo un istante giù. Swan dive è un esercizio in cui tu devi mantenere la forma del corpo e dondolare. Quindi non c'è un reale movimento articolare. Ma la difficoltà è proprio mantenere quella forma. Quindi è un esercizio di stabilità dinamica. Quindi da qui. Mantieni quella forma. E dondolino avanti. In su. Espira giù. In su. Espira giù. E da lì scivoli indietro. Nella posizione del fanciullo, del bambino. E allunghi la zona lombare. Ci muoviamo in quadrupedia. Mani sotto le spalle e ginocchia sotto il bacino. Clavicole larghe. Da questa posizione porta la mano destra più dietro. Rispetto alla spalla e la sinistra dallo stesso lato. Quindi flettiamo lateralmente la colonna. E fai scivolare la gamba destra indietro. E da qui up and down. Cercando di mantenere la muscolatura laterale del tronco di destra attiva. E vai ancora per sei. Cinque. Richiama la spalla destra indietro. Dovresti sentire i muscoli laterali del tronco di destra leggermente strizzati. Ancora due. Poi radicati sulla mano destra e allunga il braccio sinistro. Prendendo una forma curva del corpo. E poi da qui ritorna con la mano giù. E arrotonda la colonna vertebrale spingendo il pavimento lontano. E ritorna. Cambiamo lato. Quindi la sinistra più dietro della spalla, la destra oltre. Fai scivolare la gamba sinistra dietro. Mantieni il fianco sinistro alla stessa altezza del destro. Quindi non c'è una rotazione del busto, ma c'è una flessione laterale. E di nuovo up and down. Benissimo. Ricrea lunghezza per otto. Sette. Due movimenti ogni mio conteggio. Cinque. Quattro. Pensa di muovere da dove la coscia si attacca al gluteo. E ancora due. Uno. Rimani lì. Radica il braccio sinistro. Il destro diventa la prosecuzione di quella linea curva. Poi ripoggia la mano e arrotonda la colonna vertebrale. E poi fai il ritorno. Bene. Da qui adesso ci mettiamo in piedi. Una volta in piedi, i piedi paralleli, facciamo alcuni movimenti di equilibrio funzionali. Bene. Quindi radica i tuoi piedi e a questo punto solleva la gamba destra e più la gamba sale, più muovi l'ischio destro giù in basso. Ricrea lunghezza nella colonna vertebrale. E adesso nel muovere la gamba destra dietro, estendendo l'anca, piegati sulla sinistra, mantenendo la colonna in posizione perfettamente neutrale. E ritorna. Per tre volte fai soltanto questa azione. Prova mantenendo una mano sulla zona pubblica e uno sull'osso sacro a percepire stabilità nella colonna vertebrale. Ancora una volta. E adesso andiamo a creare un vero e proprio movimento funzionale di rotazione. Quindi mentre la gamba destra va indietro, il braccio destro scende, il sinistro sale. E poi ruota verso destra. Quindi nel piegare la gamba ruoto a sinistra. Nel tornare su, ruoto a destra. Nel piegare la gamba ruoto a sinistra. Nel tornare su, ruoto a destra. Mantieni sempre coscienza nei muscoli centrali del corpo. E ritorna. Poi sull'ultimo poggia le mani sulla coscia. Stabilizzati e fai piccole estensioni dell'anca. Bene. Continuando ad allungare la colonna vertebrale. Ancora per cinque. Quattro. Tre. Due. Uno. E poi fai ritorno. Tutte e due le mani sulle cosce. E arrotonda la colonna vertebrale. E inspira. Benissimo. Cambiamo. Gamba sinistra su. Ricrea lunghezza. Allunga il fianco sinistro. E per adesso le mani sul bacino. Osso sacro. Zona pubica. E piego. E ritorno. La gamba non si distende mai. Pensa di spostare peso dietro. Quindi pensa agli schi indietro e il ginocchio in avanti. E ancora per quattro. E in. Ancora per tre. E in. Ancora due. E in. E a questo punto. Mentre pieghi la gamba. Ruota verso la tua destra. Come se volessi prendere qualcosa giù sul pavimento. E poi ruoti sinistra. E ancora. Se dovessi perdere l'equilibrio. Nessun problema. Riassestati e riparti. Ancora quattro. E in. Ancora tre. E in. Ancora due. Senti la coscia. Un luteo destro. Ben attivi. E in. L'ultima volta. E in. E poi poggi. Le mani sulla coscia destra. Ti pieghi sulla gamba. Fai piccole estensioni dell'anca. Per sei. Cinque. Quattro. La gamba destra un po' piegata. Tre. Due. E poi la gamba sinistra raggiunge la destra. Tutte e due le mani sulle cosce. Srotola la colonna. Che facciamo più in avanti sul tappetino. Inspiri. Sollevi le braccia. Ed espirando. Roll down. Vertebra per vertebra. Scivola giù. Afferra le tibie. Bene. Combiniamo. Rolling back. Rolling. Like a ball. E teaser. Quindi. Dai un'occhiata magari prima di eseguire. Arrotondi la schiena. E anche questo è un esercizio di stabilità dinamica. Ovvero mantengo quella forma e la muovo in relazione allo spazio. Quindi dovrei evitare di muovere segmenti del corpo. Mantengo quella forma. Il movimento parte dal basso, non dalla testa. Inspiro dietro. La testa non poggia. Espiro avanti. Inspiro teaser. Aprendo le braccia. Espiro. Ritorno. E ancora. In. Ed espiro. E allunga la colonna vertebrale. E ritorna. Tieni pure le gambe leggermente piegate. Così. Se per te è difficile distendere. E ancora. In. Fuori l'aria. Distendo. E ritorno. Ancora due. In. Fuori l'aria. La testa e le spalle non poggiano mai. Distendo. E ritorno. Compatta le gambe. L'ultimo. In. Fuori l'aria. Rimani lì un istante. E da qui. Apri le gambe e chiudi le braccia. Una piccola sfida. Per quattro. Tre. Due. Uno. Da qui. Riafferra nuovamente. Poggia i piedi. E srotola la colonna. Wow. Bene. E da questa posizione. Apri le braccia a lato. Gambe unite. Compatte. Sollevando il piede destro. Ruota le gambe verso la tua sinistra. E inspira il centro. E viceversa. Poi ci fermiamo. Lascia andare la gamba a sinistra giù. Distese. Fere il ginocchio destro. Mantieni il ginocchio a te per alcuni istanti. Chiudi pure gli occhi. Concediamoci alcuni momenti per dare il tempo al nostro corpo di metabolizzare gli effetti del lavoro che abbiamo svolto. E poi tutte e due le ginocchia al petto. Lascia andare la destra e traziona la sinistra a te. E rinuovo tutte e due le ginocchia verso di te. I piedi larghi sul tappetino. Braccia aperte a lato. Ruotile anche da un lato e dall'altro. Cercando di avvicinare il ginocchio di più al pavimento. Passando per un momento in cui tutte e due le gambe sono divaricate. Proprio per completare la lezione sperimentando quella sensazione del corpo fluido, morbido. Benissimo. Tieni per alcuni momenti le piante dei piedi unite. Respira in modo calmo, lento. Lascia che il respiro sia quello strumento perfetto per ritrovare quella connessione tra mente e corpo. E senti il corpo cedere all'azione della forza di gravità. E quindi laddove da qualche parte senti di stare trattenendo qualcosa, lascia andare. Bene, richiudiamo le gambe, scuotiamole leggermente. E ruotiamo su di un fianco e per finire ci riposizioniamo, ci rimettiamo in piedi. E nei piedi paralleli, le braccia morbide sui fianchi, espandi la tua visione periferica. Prova a mantenere per quanto più tempo possibile dopo la lezione questo senso di apertura, di allineamento. Rimani connessa con il tuo respiro. Sperimenta come una corretta postura è qualcosa di dinamico. Non può essere qualcosa di statico, di rigido. Quindi senti il corpo che oscilla nello spazio vuoto. Non c'è rigidità, c'è solo organizzazione. Bene. Fai un grande ispiro. Espirando piega le gambe e accompagna la discesa delle braccia. E ancora una volta quel movimento perfettamente integrato in quello spazio vuoto. Quando lavoriamo sul corpo allungandolo, risvegliandolo, il corpo lo sentiamo maggiormente in quello spazio vuoto. C'è maggiore integrazione con quello spazio. Unisci il palmo delle mani. Espirando scivola con le mani al centro del petto e premi le mani una contro l'altra. Così da connetterti con l'asse centrale del corpo. E rilassa le braccia sui fianchi. Bene. Grazie mille e buona giornata. Grazie mille e buona giornata. Grazie mille e buona giornata. Grazie mille e buona giornata.